Ciao, io sono Pasquale ed oggi volevo parlarti di come nei prossimi due anni voglio complementare i miei risparmi ed investimenti con una serie di attività che sto programmando e che queste attività possono poi andare a portarmi ad creare delle rendite passive. Queste rendite non sono assolutamente il modo in cui io diventerò ricco subito e soprattutto tanto, ma tanto ricco, ma invece voglio che sia in un modo per andare a incrementare con piccole somme il mio attuale salario. Inizialmente avevo deciso di andare a planificare per il 2020 almeno 200 euro al mese di rendite passive e totali, ma come ho spiegato nel mio video precedente che ti lascio qui da qualche parte in cui mi andavo a porre gli obiettivi per questo 2020 credo e voglio che questo anno sia invece molto più proficuo di quanto io non mi voglia attendere perché voglio essere economicamente indipendente entro massimo 13 anni e per fare ciò devo ingegnarmi, come solo un italiano sa fare o perlomeno noi del sud abbiamo questa nomea, a creare nuove fonti di reddito. Poi è tutto da vedere se sia vero oppure no, ma questa ovviamente è un'altra storia. In ogni caso, proprio perché per il 2020 mi trovo ad essere in una situazione in cui voglio abbattere completamente i miei piani con un hash, con un martello, vedi un potè, ho deciso che in un modo o nell'altro farò di più di quanto non mi sia già prefissato. I 200 euro alla mese non sono più un obiettivo, so che posso fare di più e per cui mi sono proposto di raggiungere invece le 500 euro di rendite passive mensili. Questi soldi mi serviranno non come un'ulteriore forma di reddito ma di investimento per cui non lo utilizzerò per le spese giornaliere. Non ha senso fare soldi in più per poi poterli andare a spendere adesso, ma se voglio raggiungere quello scopo, quel fine ultimo di essere libero dal lavoro dipendente in 13 anni devo dedicare tutte le mie forze, tutte le mie energie a questo obiettivo. Per cui passiamo nel segno a quanti sono i miei progetti che devono portarmi queste famosissime rendite passive nel 2020 e volte. La mia prima fonte di reddito è il mio account Patreon, un account che ho creato solo di recente, ma che ho visto può essere un ottimo, ottimissimissimo mezzo di fidelizzazione di persone che come te vogliono seguirmi. Nel Patreon pubblico contenuti riservati esclusivamente agli iscritti appunto dell'account Patreon, tipo in quale aziende sto investendo, quale sto valutando, il mio portafoglio attuale, il valore dei miei investimenti e tante altre chicchie, magari anche retroscena, tutte dedicate. Le donazioni da parte di persone che non conosci sono una cosa molto difficile da tenere, per cui ho settato tre differenti tier, uno di base, uno intermedio e poi uno VIP. Mi puoi supportare sull'account Patreon a partire dai 4 euro al mese fino ai 25 euro al mese. Per questo primo anno col Patreon voglio raggiungere la somma di almeno 50 euro al mese di introiti, che si tratta di 5 o 6 iscritti tra il conto base e quello intermedio. E credo che in un anno solare sia un obiettivo fattibile. Il link del mio Patreon, nel caso mi volessi già supportare, sta qui sotto in descrizione. La seconda fonte sono i miei podcast. Si tratta del mio account Spreaker. In questo account pubblico in formato audio tutti quei video che metto sull'altro canale YouTube che gestisco, oltre a questo qui, che è inerente invece alla nutrizione e al lifestyle coaching. Non sono contenuti dedicati, nel senso che è lo stesso audio del video, ma è semplicemente l'audio appunto che viene estrapolato. Molta gente, magari se tu sei uno di quelli, preferisce ascoltare i contenuti, magari mentre sta guidando o mentre sta nel letto a rilassarsi, invece che andarle a guardare. Su quella piattaforma ho degli introiti pubblicitari. Al momento il mio obiettivo è di fare circa 30 euro a trimestre. 120 euro l'anno, non sono una somma enorme, ma insomma 10 euro al mese, per cui una somma che reputo alla mia portata. La terza fonte di reddito è in fase di lavorazione e si tratta di due libri che sto preparando. Il primo libro è appunto sulla nutrizione, per cui nell'ente al mio primo canale YouTube. Il secondo invece che sto preparando è relativo a questo percorso, a questo canale, a questo percorso di cambiamento finanziario e personale, e per cui inerente agli argomenti che già ha incontrato nei vari video, ma che sto andando a estrapolare in maniera più dettagliata. Nel primo libro voglio andare a dare indicazioni semplici a chi di nutrizione non ne capisce niente, ma vuole delle linee guida su questo argomento che permettono appunto di muoversi da soli. Anche nel secondo libro, relativo alla mia crescita personale e finanziaria, vorrei attraverso la mia esperienza dare invece degli spunti di riflessione su come andare ad affrontare i debiti e finanza personale, e per cui di come io ci stia riuscendo. Da questi due primi libri vuole trarre almeno 50 euro al mese. Non si tratta di una cifra esagerata e ovviamente, essendo io uno scrittore inesperto, non posso neanche andarle a mettere in vendita a prezzi esorbitanti, ma mia intenzione era quella di fare almeno 3-4 vendite per ogni libro al mese. Per cui, con un prezzo che si aggirerebbe tra i 6 e gli 8 euro al libro, ancora devo decidere. Prima li devo scrivere e poi il prezzo sarà l'ultimo dei miei problemi. Li metterò in vendita su Amazon e cercherò ovviamente di pubblicarli sia in italiano che in inglese per aumentare la possibilità di guadagno e quindi di espandere il mio verbo. Tanto abito in Irlanda, qualche parolina in inglese la spiccico. A proposito, se questo video ti sta piacendo, per favore lascialo un pollice in su e commentalo, che non ti fa male al ditino. Questo è anche uno dei modi in cui io posso andare ad aumentare la mia presenza su YouTube e per cui, in questo modo, mi aiuteresti a raggiungere la mia dipendenza economica e per cui lo apprezzerei tantissimo. La quarta fonte di reddito è sempre inerente al mio canale sulla nutrizione. Sto preparando un primo videocorso sulla nutrizione di base, corso ovviamente a pagamento, ma che sia con un prezzo alla portata di tutti. Non sarà un corso da 1000-2000€ come se ne vedono tanti in rete, ma neanche da 50€ perché comunque ci vuole del tempo. Non ho scelto il prezzo, ma non credo andrà oltre i 250€ a corso. Comunque non so, vedremo. Ho preparato tre video su otto, per cui devo un po' velocizzarmi per poterlo mettere in pratica il prima possibile. Di questo, nel primo anno, ho in piano di venderne almeno uno in bimestre. Non mi sembra chissà cosa, per cui posso dire circa 125€ al mese. Infine, ho questi due canali di YouTube di cui ti sto parlando dall'era geologica. Quello di nutrizione è questo qui. In quello dedicato alla nutrizione ho già superato le 4000 ore annue e mi mancano solo 150 iscritti per raggiungere i 1000. Questo qui, al momento, ha superato da pochi 300 iscritti e le 500 ore di visualizzazione. Tra l'altro, questo canale mi sta dando tantissime soddisfazioni perché l'ho creato da meno di 4 mesi. Il primo ce l'ho da un anno e mezzo e do la metà dei risultati. Per cui, su questi due canali, spero nel totale mensile di fare la differenza dei soldi che mi mancano da raggiungere i 500€ che mi sono proposto di raggiungere. Per cui, tra i due, i 265€ totali al mese che non credo siano un obiettivo pubblicitario enorme da raggiungere. Lo vedo ardo, ma non impossibile. E comunque, la fortuna aiuta gli audaci. Piacere Pasquale è audace. E io voglio raggiungere tutti questi obiettivi per questo anno. Sono obiettivi difficili? Sì, molto probabilmente lo sono. Ma per alcuni mi sono tenuto abbastanza largo e magari, chi lo sa, potrei essere in grado di superare le mie attese. Non si sa mai. Non è un problema che mi pongo in realtà. La cosa veramente importante è una lavorare sodo per avere la possibilità di riuscirci. Se sto solo qui a parlare ovviamente davanti a una videocamera non raggiungerò mai nessuno dei miei obiettivi. Ma basta rimboccarsi le maniche e forse ci riuscirò. Certo, ho messo in conto che la variabile tempo può essere limitante per portare avanti tutti questi progetti ma fa parte ovviamente del gioco. Devo essere io a sapermi organizzare. Se voglio la mia libertà economica non posso pensare di poterla avere trovandola per strada. Bisogna ovviamente farsi un bel mazzo così per qualche anno e poi, ovviamente, andarsi a godere le proprie soddisfazioni. Solo con queste entrate extra potrò investire di più in strumenti finanziari che mi permetteranno di portare a termine il mio progetto di comprare azioni, ETF di aziende e condividendi da poter poi reinvestire in compounding. Bene, con questo video oltre a darti i miei progetti e averti fatto fare un altro po' i fatti mei magari posso anche averti dato qualche idea a te se anche tu come me sei alla ricerca di indipendenza economica e stavi pensando di crearti delle rendite passive. Ovviamente per qualsiasi scelta preparati bene se hai questa necessità di investimento o se vuoi magari andare a utilizzare dei prodotti particolari perché ovviamente quello che ti sto dicendo sono mie esperienze e non sono un consulente finanziario neanche nel lavoro in questo caso. Fammi sapere cosa ne pensi di questi miei programmi e di questi miei progetti lasciandomi un commento qui sotto. Scambiamoci le idee su questo contenuto e dimmi se trovi questi concetti magari di tua utilità e se tu avevi anche altri progetti simili o se hai altre informazioni che possono tornare utili a me o altre persone che come me stanno cercando l'indipendenza finanziaria. Se il video vi è piaciuto mi raccomando distruggi il pollice in su iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!